Premiatissima 85 Johnny Dorelli e Nino Manfredi trasformano il tuo venerdì in musica e divertimento Premiatissima 85 Le canzoni che ami di più con i ricchi e i poveri Gli robot, il gruppo italiano Passengers impegnati in un emozionante gran premio musicale Premiatissima 85 Le svalorditive imitazioni di Alfredo Papa Le nuovissime gag dell'attresca Premiatissima 85 Classe e simpatia L'amore per una grande tradizione di spettacolo Premi il tuo venerdì C'è premiatissima Domani sera alle 20.30 su Canale 5 It's an Alive Diana It's an Alive E' il nuovo album di Diana Ross Finalmente ho conosciuto il Conte Dracula Il nuovo album di Mina Anche per noi bambini la moda è importante E sì, per... Per riuscire a volare Per andare a pescare Per andare a suonare Per andare a giocare Per uscire con la pupa E per andare a mangiare Che comoda Roba da bambini Versa il tuo Averna E scopri dietro la sua etichetta Orologi firmati Ferrari Coordinati Casa Favolose Rover Il gusto pieno della vita Quale uso io? Nuvenia Sì, Nuvenia Perché Nuvenia è l'assorbente Che mi dà la massima protezione La morbidezza E la sicurezza dell'adesivo lungo Nuvenia E ti muovi sicura Oh oh, grande concorso KitKat Spezza con il ritmo Mangi tre KitKat Te vinci Hi-Fi Tastiene elettroniche Mangia nastri con guffia Spezza con il KitKat Un affedimento Esplosivo Grande concorso KitKat Spezza con il ritmo Trava che cerchi Sui esse tu trovi Trava che scegli Brava Brava che è giusto E se ti aiuta Brava a rifarmi Brava Brava il tuo esplistico E se ne fregna Brava a salarmi Alietro fi Brava OVS Scontrino felice Grava a salarmi Grava a salarmi Grava a salarmi Che numero Cos'è metto? I fiori? Bella la rosa Che scelta La seta La seta Certo Fine Liscia Agli appuntamenti che contano Manufat In seta Lana E filo di Scozia Commerciante Avrai registratore di cassa Vita natural durante Un incubo? No Una realtà RCH ti aiuta ad affrontarla con intelligenza Con una gamma di registratori di cassa Pensati per risolvere ogni problema di gestione Con semplicità Ci pensa RCH Quelli della gestione intelligente A questi E questi li ho lavati io A colori eh Ma è così facile con biopresto a mano Perché nuovo biopresto a mano Mi toglie ogni problema Di bianco E di colore Nuovo biopresto a mano Anche a mano È facile e pulito Nuovo biopresto a mano Il mio gatto si chiama Trucciole Con me da un anno e mezzo È un gatto giocherellone È adorabile Ma ogni tanto mi fai dispetti Mi ruba le cose E poi si nasconde E quando è l'ora di mangiare Vuole solo le cose migliori Viscas lo preferisce E come? Con tutto quel bel pesce A lui piace non partire E poi Gli piacciono tutte le altre varietà di Viscas Eh sì Non ci sono storie Il mio gatto preferisce Viscas E il tuo? L'ha già provato? Oggi le aziende che hanno le qualità necessarie Per diventare leader nel proprio settore Si contano sulla punta delle dita Cimet è leader Per chi ottiene nelle ricerche sulla caduta dei capelli Risultati di grande valore La grande esperienza e professionalità della Cimet Durante il trattamento personalizzato e controllato Vi consentirà di reggere qualsiasi confronto Inoltre per chi desidera l'infurtimento parziale o totale dei capelli Cimet dispone di innovative tecniche implantologiche con brevetto di esclusiva Telefonate per prenotare un esame gratuito Cimet Cimet è presente sull'elenco telefonico alla lettera C Sì, sugo, frappè, risotto hanno passato la notte su queste stoviglie Ma ora è arrivato il finish E il pulito assoluto è tornato Anche sulle stoviglie del giorno prima Finish Da oggi anche con la fragranza del limone Finish Specialista in stoviglie brillanti Gaminetti, Alfieri, Raffaelli Segni di fuoco I primi colori d'autunno sono lilla Primi colori baoli, dolce d'autunno Baoli ha un regalo per ogni stagione Primi colori, con le creme di rum e marron glacé Maoli è un segno Camomilla, montania Camomilla, montania Momenti di distensione Tu che ami i miei capelli New Dimension Shampoo Così intenso La tua schiuma è più ricca Lo sento Lavi meglio i miei capelli E li rispetti Ti prendi cura di loro Li proteggi fino in fondo La tua è una bellezza profonda Perché New Dimension Ha in più sostanze speciali Che proteggono, rispettano Si prendono cura dei capelli Per farti più bella Il primo shampoo Innamorato dei tuoi capelli New Dimension Zeffirelli presenta Pellice Annabella Un sogno Si Una pelliccia Annabella 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 solo a Pavia Sì? Ciao Ti ho vista in televisione ieri sera Ti sono piaciuto? Stupenda Anche se, lo sai Io ti preferisco dal vivo Cos'è? Un complimento? Di più Un invito Che ne diresti di un whisky a casa mia? Chi stai invitando? La donna o l'attrice? Ho un'idea Porta tutte e due Accendi la tua serata con un grande scotch William Lawson Cara, hai fatto le melanzane alla parmigiana Ma oggi non è domenica Eh sì, tutti i giorni è domenica Con le specialità da buon gustaio Finghi Dai, concessionari Austin Rover Metro Un milione e mezzo di supervalutazione dell'usato Fino alla fine del mese dai concessionari Austin Rover Uno, due Pioneer Il mondo può andar piano La musica va forte Buone le cipolline? Mmm, ottime Sott'olio? No Sott'aceto? No, né sott'olio né sott'aceto Sono cipolline alla peperlizia In agrodolce Mmm, cipolline e peperoni alla peperlizia Ponti Una delizia Di più Una peperlizia Studio 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 line De L'Oreal Colpisci i tuoi capelli Studio line Gel wet loop Gel for the style Studio line Spai Fisso key Tre patti idee Per un nuovo loop De L'Oreal Questa l'ho lavata io ieri E oggi ci risiamo Ma è così facile con biopresto a mano Perché nuovo biopresto a mano Mi toglie ogni problema di bianco e di colore Nuovo biopresto a mano Anche a mano è facile il pulito Nuovo biopresto a mano Luca e il signor Camillo non si tocca Che camicia morbida Scusi se tocco Ehi sentite come morbida Morbida Che buon profumo Morbida davvero Irresistibile La mia camicia E questo profumo così fresco Che amorbidente è? Sempre Lenore Ma nuovo Lenore Una nuova freschezza che dura di più Oh questa si è una novità Lenore Lenore L'ammorbidente irresistibile Oggi con una nuova freschezza che dura di più Il steak è fantastico con il coca Si, è vero Moi, mi piace molto cuore con il coca-cola Spaghetti, pomodoro E coca-cola Da di più Coca-cola di più Coca-cola A tavola In tutto il mondo Che effetto ti ha fatto vestirti di mash? Dall'arancia e dal limone Tante piccole gocce di bontà Sai la frutta Nei migliori negozi Fai la frutta Profuma Nelson Piatti Mi piace Ed è neutro per le mani Nelson Piatti Nuovo Quando una manina di bimbo Ti prende per mano Nasce Bon Ton Il seggiolone che apri con una sola mano Bon Ton Comodo e sicuro Doppia protezione Passoio estraibile Passoio estraibile Bon Ton Amaro Montenegro Amaro Montenegro Sapore vero Camel Trophy 86 Stiamo cercando uomini Per formare il team italiano Compila il tagliando di partecipazione Che trovi sulle principali richieste Per sfidare la giungla australiana Vogliamo te Senti che pace nella valle Il nonno lavora in un posto come questo Si chiama la valle degli orti La valle degli orti L'amore per la terra da solo buoni frutti Oggi Minestrone di 12 verdure scelte e surgelate Per cambiare la vita della tua pettinatura Garnier ha creato Airel La spuma Qua Fond Airel di Garnier si applica sui capelli umili E sei sicura di riuscire nella tua pettinatura Sicura di farla durare a lungo Morbida e piena di volume Airel di Garnier Cambia la vita della tua pettinatura Airel Dai laboratori Garnier Parigi Buonasera Un momento Cosa succede? Ma porte aperte Non siete in ritardo Le speciali condizioni di vendita porte aperte Continuano fino a 15 novembre Andate Sono qui per presentarvi una star di eccezione La Renault 9 Completamente ridisegnate con il nuovo brillante motore E mille due Ma non basta Da oggi Renault 9 e Renault 11 Sono anche in versione Broadway E anche per loro valgono le condizioni speciali E il credito porte aperte Sapete che vi suggerisco solo cose giuste Andate Nuovo Nuovissimo Eccezionale Il grande concorso di Bio Presto Forza Buona E Coccolino La coppia vincente Che non solo ti premia Ma ti porta a giocare in tv Gioca e vinci Con Pentathlon Vinci un miliardo Con la coppia vincente Ma 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 cos'è Matto matto A ketchup kraft Guarda l'uovo che fa Con un gusto così Matto matto A ketchup kraft Impazzire ti fa così Matto matto A ketchup kraft E l'hamburger che fa Con un gusto così Matto matto A ketchup kraft Impazzire ti fa Matto matto Mato matto Ketchup kraft Matto matto Impazzire di tomato Kraft Cose buone dal mondo Guardate Carlo sta per scoprire Un nuovo colgate Il nuovo colgate Blue gel E' blu E' diverso Colgate blu Che forte Dai Fammelo provare E' fresco Fammelo provare Mamma Ecco blue gel Il secondo gusto di colgate Si si è preso in tempo La fase iniziale della carie Può essere fermata Con il sistema fluor minerale Sì Carlo Colgate è efficace Per tutti e due Ok ne vuoi un pochino Colgate blu gel Il gusto che piace ai bambini E l'efficacia che potrebbe significare L'inizio della fine della carie Orologi svizzeri revue Altissimo livello tecnologico Grande esperienza nella strumentazione aerea civile e militare Controllate L'orologio revue E' sempre esatto L'ario Un tasto avanti Quando la tua giornata è tanto lunga E hai bisogno di nuova carica Pocket Coffee Sempre con te Pocket Coffee Vero espresso liquido Infine cioccolato Nei tuoi momenti di stanchezza Quando hai bisogno di un po' di energia Pocket Coffee E riprendi subito con Nuovo Sprint La carica del caffè più l'energia del cioccolato Pocket Coffee Ferrero Citroën presenta Nuova BX Black Benzina e diesel Grande spazio Grande carattere Citroën BX Black Chilometri sì Meccanici no Alla distilleria Jack Daniel nel Tennessee La più antica registrata nel Nord America C'è il tempo per produrre il Jack Daniel Come faceva il vecchio Jack nel 1866 Usando l'acqua della sua sorgente E lasciando ammorbidire ogni goccia di whisky in questi tini Dopo il primo sorso Sarete grati a Jack Daniel di essere l'unico Che si prende ancora il tempo per fare il whisky in questo modo Jack Daniel Tennessee Whisky Con tutte le ciambelle riescono col buco Ma c'è polo 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 Il buco col gusto Menta della mente tornò Un buco nell'acqua può sempre capitare Ma c'è polo 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 Il buco col gusto Arancia dell'arancia tornò Alla banda del buco Stavolta è andata buca Ma c'è polo 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 Il buco col gusto Gusto del limone tornò Alla menta un classico All'arancia e limone nuovo Polo il buco con i gusti gusti intorno Muscheri Un tocco di classe per le tue serate con gli amici Muscheri è l'idea giusta Muscheri Ferrero Ho superato me stesso Visto che quest'anno Dixan premiatissimo 85 Ha il primo premio di mezzo miliardo Mi sono già accaparrato tutti i fustini e fustori E uno di questi biglietti mi farà vincere mezzo miliardo Mezzo miliardo Dannazione ma stavo sognando Pronto? Non ho ancora tutti i fustini di Dixan premiatissimo 85? E allora trovateli Voglio io il mezzo miliardo Dixan premiatissimo 85 Mai così ricca Il mezzo miliardo del primo premio Non è un sogno Belle le mie piante vero? Hanno bisogno di tanto amore E io le tratto ogni giorno con dolcezza Proprio come tratto i miei capelli Con la dolcezza dello shampoo natura dolce alle piante E' così dolce che posso usarlo quando voglio Anche tutti i giorni Belli i miei capelli vero? Shampoo natura dolce Quattro shampoo extra dolci alle piante Garantiti dai laboratori Garnier Io uso natura dolce al tiglio Tu quali scegli? Stendere i panni? Che scocciatura! Ma da oggi Mai più panni stesi E' arrivata a Lisè La nuova lavasciuga Candy E non è finita C'è un motivo in più Per dire grazie Candy Il concorso Oro Candy Acquistando un elettrodomestico Candy Entro il 16 gennaio Puoi vincere il valore del tuo elettrodomestico In gettoni d'oro Per partecipare Mi pare basta spedire la garantia Mai più panni stesi Perché Candy sa come si fa Buono, su, stai pure Ecco, fatto Tiepido Fai presto Accendo caldosvelto E' grande il caldosvelto De Lunghi Fa subito caldo Con vettore caldosvelto De Lunghi Canale 5 per la cultura Presenta al Palazzo Reale di Milano Kandinsky a Parigi Oltre 200 opere Fra dipinti, disegni e acquarelli Prodotti negli ultimi 10 anni di lavoro a Parigi Il catalogo della mostra E' pubblicato dalla divisione Cataloghi d'arte Arnoldo Mondadori Editore Kandinsky a Parigi La mostra resterà aperta Fino al 17 novembre Al Palazzo Reale di Milano Una promozione culturale Ratti Produzione Serica Como Hanno vinto lo scudetto Il venditore Sempre in ottime condizioni Il consulente finanziario L'uomo che conta e che ragiona Il capofficina Pronto e sicuro negli interventi L'uomo dei ricambi originali Preciso e intelligente nelle sostituzioni L'esperto delusato La sua esperienza dà la massima garanzia Sono gli uomini Di un concessionario lancia Gli uomini che hanno vinto lo scudetto Passa il professionismo Scegli il concessionario lancia La Fiera del Mediterraneo presenta Mediedil 86 Mostra di macchine e materiali per l'edilizia e per la casa A Palermo dal 19 al 24 febbraio E per il vino Frizzante Frizzante Leggero Leggero Civ e Civ Civ e Civ Vigne e vini Frizzanti La gestione aziendale di Italuar Soluzioni in pugno È in edicola il grande catalogo Grappeggia ArredaTutto Con le novità 85-86 Per risolvere i vostri problemi di arredamento Portate a casa anche voi la più grande esposizione di mobili d'Europa Oltre ai mobili troverete tutto quanto occorre per la casa Tutto Sì, proprio tutto Acquistate in edicola il catalogo Grappeggia Per risparmiare Per avere idee Per confrontare Meno male che c'è Meno male che c'è Grappeggia La donna prese il coltello e lo affondò con un colpo secco Oh no! Si era accorta di aver sbagliato Ma state tranquilli Oggi c'è fondoro Quello con il nastro rosso Fondoro Solo il buono del formaggio Da oggi Repubblica dedica a Milano ben quattro pagine in più La Repubblica Più peso ai fatti di Milano Buongiorno, buongiorno Pizzola Buongiorno Bassetti Buongiorno Brio Bassetti Brio Bassetti Brio Bassetti La sai la novità? Sotto Brio c'è perfetto Tiri l'elastico e l'angolo è fatto Sganci l'elastico e l'angolo è dritto Sotto Brio c'è perfetto Brio Bassetti In edicola al prezzo speciale di 4.900 lire Il padrino e 10 piccoli indiani di Agatha Christie I grandi best seller Una nuova grande proposta di Agostini Mondadori Da leggere, collezionare e da amare Ma che cosa? Che fame? E ci facciamo una focaccia? La focaccia? Eh sì, la focaccia Eh magari Ma io fammi subito Ma è subito pronta Con la nuova focaccia mediterranea Parmalat Bastano pochi minuti di forno per terminare la cottura Ed è già pronta da servire calda calda No Scotta Oh, una cosa Scotta Che buona Che focaccia ragazzi Buona Che buona Ma non ce n'è più Ce ne facciamo un'altra Focaccia mediterranea Parmalat E sforni allegria A steak Is fantastic with coke Tavere Tavere Nani Nani Nenomu Katte Itsmo Coca-Cola Sa Che saldroso Comere con la Coca-Cola Mozzarella Pomodoro E Coca-Cola Coca-Cola A tavola In tutto il mondo Delta 1.3 LX Per chi ha fretta Nella vita Delta GT 1.6 Per chi ha molta fretta Nella vita Ma se volete prendervela comoda Nella vita Delta HF Turbo C'è sempre molta vita Intorno ad una Delta Viva Il sottilissimo super assorbente Piegato in tre È quello che fa per te Viva È più di un assorbente È un segreto Tra te e la gente Viva Il tuo assorbente segreto Lotus È un bel giorno Per leggere grazie Non perdere grazie di questa settimana C'è una moda sorpresa per la sera Several Cosmetics L'affascinante mondo della bellezza Presenta Viva le donne Si aprano le porte dell'Olimpo Che fretta c'era Maledetta primavera Che fretta c'era Maledetto Matteo Andiamo perfettamente d'accordo Che cosa sentono le mie fosche orecchie Io per te ho molto più affetto che tu hai per me Andrea Giordana Amanda Lire Maurizio Micheli Vi aspettano a Viva le donne Domani alle 20 e 30 Su Leti 4 Viva le donne Viva Viva le donne 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 Viva le donne